E stamani stiamo a farvi vedere la bellissima Atala B-Cross e Bike che ci è arrivata proprio in questi giorni già a produzione 2017. Questa è senza ombro di dubbio la bicicletta con il miglior motore Bosch e una front suspension, ha il miglior prezzo, infatti come si vede questo è il novissimo Bosch CX Performance del 2017. Questa bicicletta come vi ripeto è veramente interessante perché è un telaio d'alluminio, il motore Bosch quello migliore e praticamente c'è già ruote di 29 pollici e infatti con delle biciclette identiche a queste le vedrete che noi correremo anche nel 10 Comoi, nella categoria e-bike che noi siamo i promotori ormai dal circa 2014, quindi sono già tre anni che sponsorizziamo questa categoria e piano piano ora anche a livello nazionale sta passendo la categoria e-bike di enduro, quindi vuol dire che ci avevamo visto in anticipo e con questo tipo di bicicletta potrete già venire a fare le prime gare. Ora per motivi commerciali, siccome il prezzo è veramente come diranno molti sotto prezzo, venite alla Bosch in Bike di Empoli e ve lo sveleremo, avrete una piacevole sorpresa, un regalo appunto per queste feste che sarà di questa bici. Per vederla dal vero, per provarla, venite direttamente a Empoli, ve la faremo vedere, ve la faremo provare, entro il tempo vi saluto, un saluto da Alessandro della Bosch in Bike di Empoli, ciao!